Quinta corsa di Palermo, miglio per indigene di 4 anni guidati dai gentleman, favori al gioco per il numero 3 RIA del GV, è il momento dello stacco, si è attardato in partenza se non abbiamo visto male proprio Ronchi si gette, uno dei più attesi, c'è stata un'ottima partenza di Ruggiade F che ha scavalcato RIA del GV ma Carmelo Galluzzo è pronto a spostare ed a chiedere strada all'iniziale battistrada, il sorpasso si perfeziona sul finire della prima curva e quindi prima di raggiungere il paletto dei 400 metri RIA del GV è la battistrada nei confronti di Ruggiade F, 30 per i primi 400 metri con RIA del GV che precede appunto Ruggiade F, per linee esterne prova a farsi avanti ribalta la pierre, prende un po' in mano il battistrada, 45 e mezzo abbondanti per i primi 600 metri, Regius in seconda pariglia ha preso la scia di ribalta la pierre, più indietro il 9 di ramadazza ed in quarta pariglia il 7 di, il 4 di Riquel Cam, mentre in avanguardia RIA del GV precede il 6 di Ruggiade F ed il 2 di Rino Disgray. Adesso è Regius a farsi avanti con belle folate ed a proporsi all'esterno di RIA del GV, primo chilometro che viene percorso sul piede dell'1 e 17 appena abbondanti, quindi si è andato tutto sommato di conserva nella prima tornata ed ecco perché Regius è già così aggressivo all'esterno del favorito, la femmina RIA del GV resta in terza posizione Ruggiade F, gli altri sembrano tutti in difficoltà, mentre RIA del GV sta fronteggiando in maniera adeguata l'attacco di Regius ed entra in vantaggio in retta d'arrivo per provare a portare a casa questo stesso successo, non si arrende Regius e ci prova fino in fondo, guadagna anche qualcosa nei confronti di RIA del GV che però alla fine la porta a casa senza grossi problemi, mentre al terzo posto abbiamo visto Ressa di Azzurra, dunque vittoria della favorita RIA del GV, Carmelo Galluzzo 1,57 la quota, training di Cosimo Cangelosi, i colori del signor Salvatore Varisco, ha respinto molto bene Regius, mentre un po' sorpresa per la terza piazza è emersa l'utsider Ressa di Azzurra che pagava 43, al totalizzatore come quota eventuale di vincente, dunque per quanto riguarda il tempo dovrebbe essere un tempo attorno al 15,5 per RIA del GV.